Ritardano l'invecchiamento, combattono il colesterolo, sono energizzanti, aiutano il benessere dell'intestino, combattono l'anemia, rinforzano le ossa e sono un tocca sana per l'umore. Questi, secondo i ben informati, i sette motivi per cui le mandorle sulle nostre tavole non dovrebbero mai mancare. Unico inconveniente sono caloriche per cui non andrebbero consumate più di otto al giorno. Se ne è parlato a Ruvo di Puglia in un convegno organizzato dal locale Lions Club, ebbe in perfetta sintonia con quello di Toritto, città che è della mandorla e capitale. Toritto ha una mandorla particolare che è la Filippo Cea, che è stata denominata DOP, quindi viene stata riconosciuta a livello internazionale, infatti il nostro prodotto, noi abbiamo un ottimo chef che ha presentato la nostra mandorla al principe d'Inghilterra e al principe di Monte Carlo. Quindi sono stati fatti dei dolci, esattamente con la nostra mandorla, Filippo Cea e l'Antonio De Vito. Ma le proprietà benefiche della mandorla sono note anche in campo medico. Questo prodotto ormai è insostituibile, è insostituibile. Un esempio per tutti, nella radiofrequenza, per esempio, l'olio di mandorle dolci è il veicolo che ci fa accarezzare la pelle attraverso il manipolo della radiofrequenza, la fa retrarre, stimola la produzione dei fibroblasti e la rebza è più bella. Un olio che veramente fa miracoli.